salve sono mauro monticelli della compagnia teatro del drago la compagnia che organizza burattini e figure 2018 che è una rassegna quasi un festival in rete che si svolge da giugno a settembre itinerante quindi ci sono tantissime compagnie di teatro di burattini e marionette di ambito nazionale molto importanti che gireranno per tutta l'estate in 13 comuni della romagna esattamente per una totale di 32 serate con 36 spettacoli ci teniamo molto a dire che c'è il sostegno di tutti i comuni di molti comuni della romagna e soprattutto del ministero e della regione emilia romagna gli spettacoli sono in forma gratuita quindi non c'è nulla da spendere e vi invitiamo a partecipare numerosi e a seguire i programmi il programma lo troverete sul sito Grazie 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 Grazie